Devo essere diventato matto per fare una cosa come questa. Tu al Marbury Hotel. Ma perché non hai fregato la carta intestata della Casa Bianca? Potevi dire che eri Eleonora Roosevelt. Sto cercando Devlo Sciccoso. E chi è? E qui, sì o no? Ma, sì, sì. E allora, che cosa aspetti? Muoviti, che devo fare? I funghi sul tappeto, portami da lui. Oh, sì, sì. Aspetti qui, per favore. Qui non c'è tappeto. Avrà bisogno di qualche ritocco. Ritocchi? Ma guardala. Perfino sul carretto Robetzaro sfigurerebbe. Oh, eccoli qua i taumaturghi. Cameriera privata, manicure, pettinatrice, pedicure, massaggiatrice e il più famoso dei maghi, Pierre del Saxon Plaza. Pierre il divino. Fa l'inchino, bellezza. Madame. Signori, vi presento la signora Worthington Manville. Grazie a tutti. E' come se uno scarafaggio fosse diventato una farfalla. Deve. Non lo dimenticherò mai. Mai. Dio ti benedica. Beh, dico... Nessuno ti riconoscerebbe. Bene. Beh...